Il rumore dei massi e dei detriti che si staccano dalla montagna, le enorme nube di polvere. Sono impressionanti le immagini della gigantesca frana che ha interessato il territorio della Murienne, in Savoia, in Francia, a pochi chilometri dal confine con Bardonecchia e l'Alta Val di Susa. Per fortuna nessun ferito, ma tanta paura e pesanti ripercussioni per la viabilità e il traffico ferroviario. Lo smottamento ha provocato la chiusura del tunnel del Frejus, riaperto alle 19 di ieri, ma non per i mezzi pesanti. L'interruzione parziale del traffico sull'autostrada A43 verso sud e la cancellazione dei treni ad alta velocità Milano-Parigi. A Sondrio evacuate alcune case per l'esondazione di un torrente. Violento nubifraggio a Genova, dove ieri sera sono caduti 80 mm d'acqua in meno di un'ora. I vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Certosa per salvare tre persone rimaste intrappolate in un'auto trascinata dall'acqua nel sottopasso di Brin. Allagate la stazione di Principe, dove le scale mobili si sono trasformate in una cascata, e diverse zone del centro con danni ad abitazioni ed esercizi commerciali. Diversi fulmini hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure, la linea coinvolta la Torino-Genova, i treni gradualmente stanno ripartendo, ma con gravi ritardi. La protezione civile ha diramato un'allerta rossa per i temporali su tutta la Liguria fino alle 15 di oggi. Una frana è caduta poco prima delle 7 di questa mattina sulla strada Gardesana Orientale tra le province di Verona e Trento, bloccando il traffico su quella che di fatto è l'unica arteria stradale dell'Alto Garda. Per la giornata di oggi allerta rossa per il rischio idrogeologico in gran parte della Lombardia. Sorvegliati i fiumi Seveso e Lambro. A Milano chiusi i parchi e di vieto di accesso alle aeree verdi non recintate. Allerta arancione su Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana e Veneto. In Toscana oltre 13.000 fulmini in 12 ore.